Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Cugini Campagna Sono concluse in questo momento le partite di Champions League valide per questo mercoledì sera, la seconda giornata della Champions League sono state partite bellissime e soprattutto Tottenham-Barcellona finita da 2-4 in favore del Barcellona però è stata ancora una giornata interessante e importantissima anche per le scuole italiane perché hanno giocato appunto il Napoli e l'Inter il Napoli in casa con il Liverpool, l'Inter in casa del PSV entrambe vittoriose quindi diciamo l'Italia che trionfa tra oggi e ieri 4 vittorie su 4 quindi un risultato straordinario che può far fieri i tifosi di queste squadre non solo, ma comunque molti tifosi italiani quindi bene, bene spero che il calcio italiano si stia riprendendo ovviamente non sono tanto contento della vittoria dell'Inter perché non sono un tifoso dell'Inter in Europa sono contento invece molto della vittoria del Napoli al novantesimo complimenti ovviamente agli azzurri, complimenti ai tifosi un tipo veramente straordinario quello del Napoli e quell'urlo quando fanno l'ino della Champions è sempre emozionante da sentire da brividi il Napoli comunque secondo me parliamo un attimo della partita ha meritato la vittoria perché ha avuto diverse occasioni nel primo tempo mi insegnato un passo dal gol un centimetro, un piccolo fallo dal gol poi c'è stata la traversa di Mertens che è entrato molto bene in partita al posto di un Milik che non l'ho visto benissimo infatti dopo la traversa di Mertens all'82esimo arriva il novantesimo il gol del Napoli 1-0 che appunto porta la firma di Insigne il capitano Skugnitz Mertens in buca per Cajon la solita palla spettacolare perfetta in mezzo per il taglio di Insigne Rete Insigne che sta trovando una dimensione incredibile in questo nuovo ruolo diciamo da seconda punta da falso nuere come lo volete chiamare voi ma sta trovando una nuova vita sta diventando prolifico come non l'era mai stato sta diventando il giocatore più importante del Napoli sta diventando un giocatore di livello internazionale quindi posso solo essere contento spero che si confermi anche il nazionale perché ti voglio bene Skugnitz anche se mi sembra contro il Milan e quindi continua così grande Insigne poi per quanto riguarda l'Inter vittoria secondo me non tanto meritata penso che il PSV ha giocato una buona partita in vantaggio con Rosario con un gran gol all'angolo l'incrocio dei pali da fuori aria poi ha pareggiato adesso ne parliamo però intanto c'è stata una possibile espulsione di Andano invece per un fallo diciamo a presa di mano fuori aria gli stava l'espulsione doveva essere espulso probabilmente e non è stato espulso quindi l'Inter diciamo in questo senso è stata fortunata e poi c'è stato anche il gol dell'Inter è stato viziato anche da un fuorigioco di qualche centimetro di Mauro Riccardi quindi era da annullare anche questo e quindi l'Inter sta favorita agli arbitri oggi è inutile girarci intorno e vado subito al sodo e lo dico chiaramente senza scrupoli senza niente e l'Inter sta assolutamente favorita agli arbitri con l'espulsione a questo gol ma non è tanto colpa agli arbitri cioè più o meno su Vindanovic è colpa agli arbitri comunque bisogna mettere la VAR questo è un argomento un punto di riflessione uno spunto di riflessione scusate per appunto riflettere sul fatto che la VAR è impossibile non ci sia una competizione importante con la Champions League per fortuna l'anno prossimo ci sarà si eviteranno errori del genere comunque compromettono delle parti importanti addirittura dei gironi non la toglierà l'Inter comunque ha fatto una buona partita stavo dicendo il gol il bel gol di Angolanda fuoriare dopo una serie di rimpalli dopo una spaperata di Zoet Zoet come lo volete chiamare che poi spaperella anche sul secondo gol dell'Inter su appunto il gol di Cardi due gol in due partite per i Cardi comunque si conferma un grande bomber anche se in Serie A non sta facendo benissimo in Champions sta trovando la sua dimensione quindi complimenti all'Inter anche se non merita più di tanto però ha giocato una buona partita una partita di grinta ultimamente l'Inter diciamo stava avendo tanti episodi a favore sia a livello di fortuna sia a livello di arbitraggio però c'è da dire che si è ripresa alla grande dopo un periodo iniziale quindi vanno fatti solo i complimenti a Spalletti e a Ine Azzurri poi per il Napoli ancora avevo gettore di parti poi parliamo un attimo di Tottenham-Barcelà la partita che io ho guardato con più interesse c'è più che altro perché c'è Leo Messi che è il mio giocatore preferito come voi credo che sappiate il mio idolo ha fatto una prestazione straordinaria Messi ha fatto partire le azioni dei primi due gol di Coutinho e poi di Rakitic che tra l'altro ha fatto un gol fantastico al volo da fuori aria poi ha preso due pali Messi è anche sfortunato perché è il giocatore che prende più pali attraverso del mondo penso dopo insieme a Zaic sta prendendo un sacco di pali attraverso e Messi in questa unica stagione e poi però si è sbloccato con una grande azione fatta partita da lui palla a Jordi Alba solita azione di Barcellona e Jordi Alba palla in mezzo due velvi Coutinho e Suarez pallone che arriva Messi che ribatte in rete e poi il secondo gol ancora un altro grosso di Jordi Alba ancora che ha fatto una grandissima partita ancora un altro Velovi Suarez che è un giocatore intelligentissimo super utile alla squadra neanche se non sta segnando come gli anni passati sempre utilissimo e Messi che appunto non può sbagliare davanti a Ioris quindi prestazione fantastica della pulce argentina che arriva a quota 5 gol in due partite della Champions League e arriva a quota 105 gol in tutto in questa competizione comunque per oggi è tutto vi sapevo cosa è pensato iscrivetevi al canale e calvi bella rega